a rompere... Noi andiamo a rompere le scatole. Vai, vai. Grazie di essere stata con noi. Lasciamo libera. Ma se vuoi rompere le scatole, noi... Ma dai, vieni a rompere le scatole. Vieni anche tu al concio, dai. Non ti mettere dietro la scatola. Stai davanti. Vieni qua, qua, qua. Ecco, guarda, mettiti qui, proprio fatti... Anzi, qua, 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 qua. Allora, attenzione. Lei potrà offrire una scatola senza sapere cosa c'è dentro. E quindi questo è anche pericoloso. Molto pericoloso per le casse del comitato. Te la rai, ma posso fare come mi pare? Sì, con calma. Devi fare come ti pare. Una di queste scatolette. Guardatele e tra poco forse dovrai offrirle. Vedi queste qua sopra, vedi queste colorate. Ecco, vediamo se c'è. Pronto? Pronta? No dai, ho stritto l'occhio a me, non a te. Non a te ti può sembrare, capisci?